Giovedì 22 settembre in occasione dell'equinozio d'autunno, quando le ore di luce equivalgono a quelle del buio, dalla cinta del castello Svevo di Cosenza a partire dalle ore 21 l'associazione d'astrofili Menkalinan organizza un viaggio a lungo la volta celeste, sentieri tracciati con puntatori laser tra stelle e costellazioni che rievocano gli antichi mito greco-babilonesi, pianeti e galassie risolte tramite telescopi professionali. La seduta osservativa che si avvale oltre che dai soci di Menkalinan, anche del contributo di studenti che hanno conseguito il dottorato in astronomia visiva, sarà introdotta e curata dai docenti Unical, Francesco Plastina e Franco Piperno.